Anfaccia a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova carne solo mid, esattamente la... l'ottava, l'ottava carne solo mid se non sbaglio Ci siamo, siamo verso le placement, vediamo già tutti i game, Platinum 1, Diamond, quindi... Dello super giù, è D4, siamo contro tutti D4 E noi abbiamo me, vabbè, 3 D4 e un Platinum 1 in promo con... no, 2 vinto 2 verse E l'anno scorso era D1-4 ora quindi, stai ritornando al suelo, gliela facciamo vincere? O non gliela facciamo vincere? Gliela facciamo vincere? Gioco solo Mokai, o TP Mokai praticamente Vediamo un po' che succede, avevo un goccio qua Qui ho preso ecco ragazzi, rune in descrizione ovviamente, perché avevano un team veramente strong Avevano piccato Varus e Shaco, non volevo prendere un champion come Rides, come Yasuo che andasse troppo in Ma volevo prendere un champion che poteva andare in e poteva uscire quando voleva Poi fortunatamente hanno preso Lysandra e questo magari mi porterà... Ah poi Shaco, tra l'altro pure support Mi porterà a buildare questo bug del cazzo, a buildare Mercury, primo item Why not? Anzi non sa che faccio... Così sì sì Diamo di Carapting Diamo mid Ho preso Time Warp Tonic quindi Quando prendete il Time Warp Tonic ragazzi che ha questa runa qui di Inspiration Vi consiglio sempre e dico sempre di prenderli la Carapting, mi dà molto più burst Non credo che invadano loro Vediamo un po' Ma se lì con Ignite Top Boh in teoria il regio dovrebbe tenere abbastanza bene Ma vediamo Oh sasso Vediamo un po' che può succedere qua Questo è il video di giovedì della Cane Solomit Come... Come se siete che è giovedì quindi Cane Solomit Vediamo se poi i video precedenti entro venerdì, quindi entro domani Raggiungano la soglia di 3.700 like per avere anche una Cane Solomit di sabato Nel caso in cui non dovesse raggiungere la soglia niente Cane Solomit di sabato Questo dipende da voi ragazzi La Cane Solomit fa 4.000-5.000 views Quindi minimo 3.500 orzioni la guardano Che vi costa mettere like? Guarda basterebbe arrivare a un video a 3.000 like A un video Della Cane Solomit E praticamente è fatta Boom E avete la Cane Solomit anche di sabato Quindi non vi costa nulla per avere un video in più E doppio video anche il sabato Proprio Alla chill Di Sandra Io qua in realtà con la QD Ecco vorrei pushare la wave Però visto che lei ha preso questo Tipo di pat Tra virgolette Che sta giocando Un po' più su di me Ok Ma vuoi arrastare me O vuoi prendere il Siesto Lissandra Chiedo per un amico Ah merda No Hello What? La devata Ok Ok abbiamo fatto un bel danno Lei ha Doran Seringa Ok Gli facciamo usare le Le pozioni della Normali In modo tale che così Lei non potrà Non potrà Regalare e tipare con delle pozioni Visto che le ho già usate Dove lo jungle del bot E non ho ancora fatto il blu Warderò qua Flash di Sandra Molto molto buono Mannaggia a me No flash No F9 No F9 No F9 No F9 Bravi l'avete cerchiata bene Va bene Grazie Grazie Avrei dovuto prendere Darkseal Non l'ho preso perché Ho avuto una serie di Fraintendimenti Cioè ero troppo veloce Ho detto Visto 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 Rek'Sai Va bene Possiamo fare anche le Mercuri appena possiamo Cioè appena possiamo Possiamo fare le Mercuri Appena possiamo Possiamo Non possiamo Oh Così deep viene quest'altro Mercuri Darkseal Sarebbe un bel goal Di Sandra sta fondamentale E' male Una balla in testa Palla in testa Qua ragazzi Later back Master report Oh cazzo Via Regaldo Scrivono un Mastery report Per cosa Che sta intendo Mid 16CS Certe cose Non le capisco Fanculo e Darkseal Mi sa che andiamo di questo item Che dite Come 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 la vedete Mi sa proprio di si Arrivo Le mercuri Le mercuri sono molto buone Su ecco in questo matchup Soprattutto Uno per doggere le schede di Sandra Due per non farmi sonnare Troppo di W Cioè riesco veramente A dargli in E fargli danno anche se mi stanna Quindi è buono Fatti Fatti Non credere In mente Eh c'è il 6 Però Non so Comunque Andarci Questo casino In piena Q Mi ci fa credere E poi Io non so Quanto tu debba essere felice Di Sandra Che sta qua Con zero mana Sei felice Di Sandra Se lo sei Sono contento per te Perché io Posso due Non lo sarei Non lo sarei Madonna mia oh Ma tutti mid ogni volta Ma come è possibile in sto elo che Ci sia sempre gente mid C'è sempre solo gente mid da me Oh allucinante ragazzi Credo troppa pressione che cos'è Avremmo dovuto levarla dieci volte qua Lissandra comunque Forse devo farla e basta Non c'aveva senso SS con le scarpe abbiamo pure Prima in lane quindi Prendo pure il cannone Dovrei la settata tranquillamente Qua sia la W no Pusherò un'altra Ondata mid Duh Ok Queste sono shoes difference ragazzi Va bene qua tanto in mana non ce l'ho Potremmo prima dargli due o tre attacchi però Ma si Non ho capito se qualche mana stella L'isina avevo attaccato la cosa Allora ho messo l'erad prima E poi l'ho scontato con l'erad che la stella torre Oh questa cazzo di bot però eh Bot there again Allora andiamo di Lich Bane Bella Shin tranquilla Ok Roma Roma che sei un cazzo di Mokai Allora Allora Nice one Usciamo mid Stavastita l'abbiamo rotta Allora Allora comunque c'è sempre tutti i mid Ma come cazzo è possibile Stavano Stavano Ok Mi sa se Lissandra vuole ancora riportare Mastry Sta giocando così bene Aspettiamo la Shin Aspettiamo sempre la Shin Sono item più importanti Prendo un altro plate qua Un altro plate Un altro plate Siamo 10 HP di meno Ma più main speed Soprattutto contro Lissandra Torniamo a bot Torniamo a bot Pensate qua col Darkseal Sarebbe diventato subito un bel Un bel Medjai Mi sa Lissandra Molto I think Is Is rolling More Than E By the way Ok adesso falliamo Lissandra Perché prima è stata scorretta Riportiamo Mastry Perché è scarso Poi lei sta intendo Quindi Mi sembra doveroso Flammare Lissandra It was a tutorial Solo per flammare un po' Mid Visto che ha fallato tanto il suo top laner Adesso lo counterflammiamo Perché tutti si credono forti Qua Lissandra non ha fatto un cazzo Allora It's time to flame Ok abbiamo quasi la La torre Questa ho 52 HP in più La Shin Gli da La procchi 10 volte 500 HP Non è che fa troppa differenza Non si vedendo che la procchi Oh se la differenza la fa Però Neanche troppo Dai Regaliamo Aghio 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 Lissandra sta diventando tossica Will I will I will Le porterò Lissandra Tutti i bravi a flammare gli altri Lissandra verrà messa davanti a un tribunale Giuridico E' giusto Perché la legge E' uguale per tutti I redditi a livello 12 Prossimo un po' di vantaggi I redditi Un altro Eriard Un altro Eriard Un altro Eriard E qua possiamo facilmente Andare orla T3 E finire il game Poi successivamente Comunque abbiamo un giallo super bene Ragazzi veramente ci hanno sitato anche sto game Io non so come se è possibile Con ogni game Prendiamo il sit Degli avversari noi C'era un playstyle insolito Attiriamo gli avversari a noi Forse non so Ho trollato Potrei aver trollato qua My bad My fucking bad Vedendo sta cassa di controllo Vabbè Ormai la mettiamo da una parte però E' in top L'abbiamo messo le add My bad Volevo giurla molto meglio qua Lì se c'è proprio Ci ha provato Ci ha provato Qua abbiamo trovato un po' stupido Masteria ha fatto una bella Q Sulla nostra R Mazzate che ulti action No joke Fatta bene Questi non riescono neanche a creare Lo più inibito C'è il drago tra poco Vorrei prendere anche il loro rosso Se è possibile Mettiamo la pink qua C'è il loro blu Che spona tra un bel po' Ma neanche Tra un bel po' in realtà Ok Push o bot E sai Questa non è più da giocare Ragazzi Settima win I guess I guess Yes Fandiamo pure questa Se comunque Risanda è veramente tossica E non ha fatto niente Cioè anzi E' stata sittata E non è comunque riuscita Ad avere impatto Io non mi sarei comportato così Non è che stavi solo cariando Ho preso un cazzo in video Nonostante abbiano sittato Non capisco Il motivo del tuo Rage Non capisco Grazie a tutti Grazie a tutti Mastery 999990 Non rovinare lo score bro Sei un coglione Sì facciamo il baro nel final game Io li metto tipo in base Non voglio fare nulla Ascolta sui skill Vai Do it Tanto non servo io Il DPS ce l'hanno MF In realtà Sto mettendo più niente Mokai Bravo Very smart Rivello 12 Rexai Axelus Mio stesso livello Siamo attenti Che qua Mastery La starty Può essere che non la vinciamo Ce l'ho la vinciamo adesso Attivo Può prendere questo Può prendere questo Ora prendere questi Io Vi do muovo in speed Minio Io faccio le ore insieme a questa wave Go Gigi Gigi Cazzo mi dispiace per loro Game abbastanza corti Però Abbiamo giocato bene Sono soddisfatto Ci hanno risultato un'altra volta Sto facendo un video Mamma aspetta un secondo Ho qua finito Ho finito Aspetta un secondo Per favore Più 39 Ai 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 Mi sa che rimaniamo Goal da 2 Perché qua dovremmo Prendere 40 punti Come goal 2 Non mi ha fatto Schippare goal 1 Ah no è vero Non mi fa schippare Goal 1 qua Beh non credo Che la prova Mi ce la faccia fare Però ripartiremo Donnello abbastanza basso Però come verrà Molto molto strong Per il video di oggi è tutto Vi faccio vedere i danni Ah il re ne ha fatto di più Però abbiamo giocato molto bene Proud Un bacione al vostro cane Ciao ciao